La Cattedrale di Sant'Ommaso a Ortona ha aperto le porte per una mostra di opere d'arte molto interessante, quadri e sculture di maestri importanti come Trevilino. Chiediamo il perché di questa mostra al Presidente dell'Associazione Acuta, Ettore Bucci. Il perché direi che è abbastanza evidente perché di fatto il maestro Trevilino, grande artigiano della città ortonese, ha dato lustro alla nostra città con le sue opere. Il maestro Trevilino è morto esattamente 20 anni fa, è venuto a mancare 20 anni fa. Quindi oggi abbiamo voluto ricordarlo nella Cattedrale di Sant'Ommaso portando le sue opere ed esponendole. Ecco, le opere del maestro sembrano far tornare a vivere il maestro, sembra quasi di rivedere il suo sorriso ed io penso che lui sarebbe particolarmente contento di questo. Quindi abbattiamo il limite della temporalità. Ne parlavo poc'anzi, lo ribadisco. Adesso ognuno di noi nella vita può compiere degli atti, dei gesti che possono avere un significato, sia sotto l'aspetto artistico, sia sotto l'aspetto comportamentale. Ecco, il tempo ha un limite, quello che si lascia può essere proiettato nel futuro. E' questo il grande dono, la grande possibilità che ognuno di noi ha. Capisco che è difficile interpretare in un momento in cui c'è molto di materialità nelle espressioni che stiamo vivendo. Ci sono, fra parentesi, delle guerre importanti, ci sono delle problematiche che investono tutto il mondo. Ecco, io penso che tornare a sensibilizzare pian piano ognuno per il suo, le persone, i bambini, i ragazzi, verso l'arte, verso la religione, verso la fede, verso la cultura, possa aiutare. Questa è la mission di Acuta.